Dove? Oh, e questa è la piazza del castello. Bella, bella, bella location, clavorosa. C'è anche un agility. E il proprietario del pollice. L'intro. Scorso la mano! Il proprietario di Succesi del castello. Il proprietario del castello. Lui. 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 Sì! No 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 Allora Pollice ci sei, Pollice c'è, Pollice c'è, abbiamo Giobba Buonasera Finruice che se la tira Finruice Finruice E allora com'è andata questa doppietta iniziale qua con Marta Marta che tra l'altro sta là, vediamo Sta là, dopo ci andiamo Ha già salutato Coupe Ci ho parlato E' vero Si si Un poco certo di Marta, molto più sciolta di rispetto a Roma L'assenza di Coupe Potrebbe aver giocato un ruolo determinante Giulia Bella chitarra, bella presenza Bello arpeggio E' vero Dupalle Un pochino Dupalle La scambieremo col DJ del Campeggio Ci camminiamo verso l'uscita Ci vediamo dai Sotto il palco del Choc Fra poco alle ore 20 Sui nostri canali Ritorno degli sbagliatori Qui c'è un po' di gente Salutiamo Qui c'è Marta che fa il vestito che saluta Coupe Qui c'è il batterista Con la diretta Con la pesce di Martina Con la sonnata che lo so dio E questo è tutto Buonanotte Passaggio La città La città Questa è il mondo Con la sua Il mondo Il mondo Inferno Il mondo Il mondo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti